e poi la mia famiglia che mi supporta in questo periodo supporta e supporta vi dico semplicemente che mia moglie il giorno in cui abbiamo cominciato il nostro giro di nozze sapeva che dovevamo andare a Parigi invece ci siamo fermate a Marranello era il 1908 a Marranello e poi vi ringrazio tutti davvero perché ci scronate ad andare sempre avanti e lui mi dice sempre questo è l'ultimo che facciamo questo è l'ultimo che facciamo però noi dall'indomare dobbiamo pensare a come giustamente diceva alimentata la passione ma che dobbiamo alimentare che noi già siamo alimentati a Marranello dobbiamo perfezionare e già abbiamo un grande progetto molto bello lui si è lontana perché per i 40 anni di Villeneuve vorremmo fare qualcosa in Sicilia oltre il fatto che saremo qui quello che organizzerai tu Carmelo tenete pronto perché organizzeranno qualche cosa qui a Marranello però noi in Sicilia il Rosso 27 lo facciamo sentire presente ogni giorno e quindi Bertolino preparate anche tu perché il 27 corre con noi e sarà davvero un altro dei magnifici appuntamenti del Ferrari Club Ribella Nino stamattina ha fatto gelare pure la neve e sbagliamo tutte le cose e facciamo partire perché qualcuno ci segue grazie a tutti grazie a tutti